Bitcoin, tornato ad essere uno degli asset più chiacchierati dei mercati finanziari. Protagonista di una lunga corsa e una rapida discesa, la regina delle monete virtuali rappresenta agli occhi degli investitori un asset interessante sul quale investire. Dal punto di vista fiscale il trattamento è simile a quello delle valute estere, ma la materia è complessa e in evoluzione. Noi cercheremo di rispondere a due domande principali per chiarire e rendere il quadro fiscale più chiaro. Allora come ho detto ci sono due domande, la prima come sono inquadrati i Bitcoin dal punto di vista fiscale dalle norme italiane e la seconda domanda a cui risponderemo è bisogna denunciare il possesso di Bitcoin, quando e come? Partiamo dalla prima domanda che è abbastanza complessa. Il quadro normativo fiscale italiano non contiene definizioni né tantomeno criteri impositivi che in modo esplicito, diretto ed immediato consentono di inquadrare, qualificare e trattare i Bitcoin. Il quadro normativo fiscale italiano è frutto dell'attività interpretativa della Corte di Giustizia e dell'Agenzia delle Entrate. I Bitcoin e le criptovalute la cui finalità prevalente è di fungere da mezzo di pagamento, i cosiddetti payment token vanno assimilati a valute straniere tradizionali. Questo non vale per tutte quelle criptovalute che abbiano la funzione principale, quella di rappresentare un diritto di partecipazione o di credito, security token, o il diritto di ricevere un bene o servizio, utility token. In questo caso l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate sembra quella di applicare il trattamento previsto per gli strumenti finanziari a cui possono essere assimilati o per i rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine. In questa guida prenderemo in considerazione solamente criptovalute quali il Bitcoin ed i payment token. Cerchiamo di rispondere anche alla seconda domanda. Bisogna denunciare il possesso di Bitcoin? Sono sicura che tanti di voi possiedono il Bitcoin. Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi indicano le valute virtuali come definite dal decreto antiriciclaggio tra le attività estere di natura finanziaria per cui è previsto l'obbligo di compilare il quadro RW che potete vedere sullo schermo della dichiarazione dei redditi. Il quadro deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi impunibili in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito affermando che le valute virtuali ricadono nel perimetro di applicazione della norma in quanto attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti a cui è esteso l'obbligo di monitoraggio. Ci sono alcuni aspetti che non sono tanto chiari e un aspetto che non sembra del tutto chiarito dall'Agenzia delle Entrate è se si possa applicare l'esenzione dall'obbligo di monitoraggio prevista per i depositi e conti correnti bancari detenuti all'estero nel caso in cui la montare di criptovaluta posseduta sia inferiore ai 15.000 euro o 15.000 dollari. L'opinione diffusa è che l'esclusione possa essere estesa anche alle valute virtuali. Non sembrano tuttavia rivenirsi chiarimenti espressi sul punto, almeno per il momento. Grazie a tutti.